benvenuti a tutti quanti ci troviamo all'interno di uno dei saloni di borgaro torinese presso auto ingros torino spa siamo in via lanzo 42 aperti ormai da più di 25 anni siamo in un momento sicuramente molto delicato e siamo altresì pronti grazie a un progetto chiamato da fca concessionarie sicure che permette di accogliere tutti i visitatori tutti i clienti tutti gli ospiti presso i nostri punti vendita in piena sicurezza avete a disposizione perfettamente disposti mascherine gel igienizzante parati e para fiato in tutte le scrivanie per poter parlare di automobili in piena libertà e soprattutto in piena sicurezza presso auto ingros borgaro potete trovare automobili dei brand fca quindi fiat alfa lancia jeep abarth e in più i brand dodge e ram unici per piemonte liguria e valle d'aosta un cliente che oggi si vuole avvicinare all'acquisto della vettura lo può fare innanzitutto consultando il web andando per esempio sulla nostra pagina ufficiale che www.autoingros.it e poter richiedere un appuntamento con un consulente riceverà nel bravissimo tempo una mail di risposta un consulente di alla vendita si metterà in contatto con voi e riceverà quindi una mail con gli orari dell'appuntamento questo permetterà a tutti di poter venire liberamente in concessionaria senza incorrere sostanzialmente ad una sanzione ad una contravvenzione il cliente potrà rimuoversi liberamente ed effettuare anche il test drive in solitaria in maniera tale da non necessariamente avere una persona estranea al proprio nucleo familiare accanto all'interno della della vettura il momento è sicuramente molto particolare di questo ne siamo tutti quanti consapevoli ma il momento giusto per coprare un'automobile potrebbe essere proprio questo grazie ad una serie di iniziative che partono da casa madre quindi da fca in primis associate a quelle che sono le altre promozioni che auto ingros ha messo a disposizione per tutti i clienti vorrei aggiungere un'iniziativa fresca fresca di questa mattina per tutti i dipendenti fca e parenti di dipendenti fca con uno sconto del 30 per cento su tutte le vetture presso auto ingros borgaro si possono trovare veicoli nuovi usati e chilometro zero gli orari sono dalle 9 del mattino alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 19 e 30 ricevendo chiaramente il suo appuntamento si garantisce quella che è sostanzialmente la corretta distanza la corretta distribuzione delle persone all'interno del salone grazie a tutti